E' stato firmato a Firenze un protocollo d'intesa di durata triennale tra Regione Toscana e Union Camere volto a creare un coordinamento operativo di tutte le attività di promozione economica con lo scopo di offrire maggior sostegno al sistema produttivo toscano e ampliare le opportunità di crescita delle imprese. Ci domandiamo come insieme i soggetti pubblici possono fare squadra, creare sinergia e mettere a disposizione specifici progetti e strumenti alle nostre aziende. L'interlocuzione e il protocollo di oggi è questo in sintesi, un accordo fra due soggetti che su questo settore specifico, mondo dell'impresa e servizi, vogliono mettere insieme gli attrezzi quindi la capacità di fare programmazione, la capacità di essere a sistema utilizzando anche la capillare di fusione del sistema camerale regionale valorizzare anche, diciamolo esplicitamente, valorizzare il ruolo delle Camere di Commercio che devono trovare anche un'azione di promozione rivolta al futuro rivolta al futuro di queste organizzazioni così importanti per la nostra comunità. Si consolida e si rinnova dunque la collaborazione individuando una serie di interventi condivisi per la valorizzazione delle risorse economiche e produttive della Toscana. Il protocollo individua in particolare tre ambiti di azione internazionalizzazione, promozione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della collaborazione all'interno e tra filiere produttive, sostegno e promozione alla costituzione di nuove imprese comprese le start-up innovative e con particolare attenzione sul sistema delle imprese manifatturiere dei servizi. Abbiamo drasticamente il 50% di risorse in meno. Questo significa che dobbiamo efficientare e razionalizzare al massimo e quindi dobbiamo affinare ulteriormente quella che è la collaborazione con la regione toscana. Come? Lo facciamo ovviamente sostenendo le imprese all'internazionalizzazione, all'innovazione e a quella che è poi soprattutto l'impegno e la spinta verso la costituzione di nuove imprese, soprattutto nei confronti delle start-up innovative. Questo perché dai dati che abbiamo in possesso da vari osservatori risulta in maniera chiara e inequivocabile che quelle aziende, tra virgolette, dinamiche sono le imprese che in qualche modo aumentano il loro fatturato e la loro richiesta occupazionale. La Toscana è una regione che ha tradizionalmente un tessuto produttivo votato all'export in settori come moda, enogastronomia e eccellenze tecnologiche e digitali. Quello che serve sono dunque azioni mirate che in epoca di risorse sempre meno disponibili devono essere ottimizzate e coordinate tra tutti gli attori che ne hanno la possibilità e la volontà. Molte sono le imprese che ormai da tempo si stanno digitalizzando e stanno guardando verso l'internazionalizzazione e verso l'innovazione. Per cui noi dobbiamo arrivare soprattutto nel tessuto delle piccole e medie imprese che ancora sono un po' indietro, ma fondamentalmente a livello dell'intera regione abbiamo molte imprese che poi fungono da filiera, da motrice e si trascinano in teri territori da questo punto di vista. Quindi la Toscana non è ultima dal punto di vista dell'innovazione e della digitalizzazione. Toscana non è ultima dal punto di vista dell'innovazione e dell'innovazione e dell'innovazione e dell'innovazione.